Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! 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 Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti al video contest! Io sono XIUDER e ragazzi finalmente ci siamo arrivati! Non siamo riusciti a fare il contest in live perché eravate veramente in tantissimi e quindi non ho potuto starvi dietro a tutti ma vi ricordo come vi avevo promesso che il sito internet fortnitestore.io ha messo in premio tre skin Iconic, una skin Honor Guard e una skin Wonder Dove sono? Cosa c'è alle mie spalle? Alle mie spalle c'è il YouTube Random Comment Picker che è il primo risultato se cercate YouTube Picker su Google un servizio automatico che prende tutti i commenti di un video su YouTube e a caso sceglie un nome come vedete qua nella barra degli indirizzi ho inserito l'indirizzo del video di ieri pomeriggio andiamo a caricare tutti i commenti in modo che anche se non siete presenti possiamo comunque dirvi se avete vinto oppure no li sta caricando 14 15 16 17 pagine di commenti per un totale di attenzione di 2330 commenti quindi ragazzi un bel pollicione mi raccomando un buona fortuna a tutti e andiamo ad estrarre la prima Iconic mi basta semplicemente cliccare su Randomly Pick Winner e allora 3 2 1 ecco il primo vincitore della skin Iconic è Asso28 quindi Asso28 io vado a prendere il codice del suo canale in modo che quando mi contatterà vedrò effettivamente se è lui e mi iscrivo al suo canale in modo che non c'è ovviamente modo di barare Asso28 mi contatti o domani su Youtube o altrimenti mi provi a scrivere un commento qui sotto è inutile che vi fate gli account perché tanto io ho l'url o su Instagram dove vuoi seconda skin Iconic siamo sempre lì ragazzi quindi mi raccomando 5 4 3 codice exuderone 1 andiamo a vedere chi è il secondo io punto io punto anche questo ragazzo complimenti per aver portato a casa una skin Iconic ti vado a copiare l'indirizzo del canale andiamo a incollarlo qua mi iscrivo al suo canale in modo che ovviamente non può non posso sbagliare siamo arrivati ragazzi alla terza e ultima skin Iconic per qualcuno di voi come sempre fortnestore.io le mette in palio potete andare nel suo sito per ottenere anche altre skin rare per fortnite ovviamente in maniera super lecita quindi mi raccomando 3 2 1 l'ultima skin Iconic file blade trattino basso Luke o Luke lo andiamo a copiare ecco qua come sempre l'indirizzo del canale ci iscriviamo in modo che non posso sbagliare e le tre skin Iconic sono andate è venuto il momento ragazzi della honor guard mi raccomando ve lo faccio vedere l'ultima volta per dovere di cronaca fortnestore.io eccolo qua ragazzi dietro le mie spalle chiedo scusi intanto per il pezzettino nero in basso vicino alla webcam la sistemiamo proprio rapidamente è colpa di questo coso che fa come sempre una luce incredibile eccolo qua ragazzi il sito super legit anche io ho preso lì le mie prime skin molti di voi le hanno prese quindi mi raccomando non dimenticatevelo per la honor guard 5 4 3 2 1 vediamo un po chi è è rock carp 80 24 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 andiamo a copiare anche qua all'indirizzo del canale di questo ragazzo ci iscriviamo in modo da non poter sbagliare come sempre sempre lui sempre lui sempre lui dobbiamo fare pubblicità sempre lui ce n'è un sacco raga guardate quante ce ne ha guardate quante ce ne ha sono veramente tutte 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 non abbiate assolutamente paura perché va alla grande e allora l'ultima estrazione la skin wonder bellissima meravigliosa super spettacolare la skin wonder ragazzi 5 4 3 2 1 chi se la porta a casa fs t team complimenti ragazzi a fs t team che porta a casa la skin wonder andiamo a copiare l'url anche del suo canale ci iscriviamo e io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando contattatemi in qualche modo o il live o su instagram o via mail vedete un po voi vi metterò in contatto direttamente con lui meglio meglio instagram anzi no meglio il live su youtube così vedo che siete effettivamente voi noi ragazzi ci vediamo domani mattina col video delle news alle 7 e un quarto questa notte al 23 15 live su twitch ciao ciao